2-7 pari, 25-16 il primo per Montichiari, 25-13 il secondo per Monza, poi 26-24, terzo il migliore parziale finora, vinto da Monza, ma si è visto lo spettacolo, 25-21 nel quarto set purtroppo con questo infortunio alla Caviglia, speriamo una lieve distorsione per la Guatelli, non ci voleva proprio, 1-1 in questo inizio del quinto set con Montichiari che si schiera in campo con la palleggiatrice Serena Milani che ha giocato tutta la partita a parte il primo set, opposta la Zanotto, a banda Saccomani e Kravestein, al centro Rebora e Alberti, la difesa di Zampedri, Saccomani subisce muro, poi ancora si ripropone pallonetto, il muro di Rebora la battuta per Montichiari, poi bello il muro di Saccomani, Balboni, non arriva la Garbet, erroraccio, 4-1, l'attacco di Nomiku che termina out per il 5-1 in favore di Montichiari che si avvia verso la metà 7 con un vantaggio di un certo peso, Saccomani, il muro su Balboni, 6-1, Kravestein, eis per Kravestein, Monza sta crollando sotto i colpi in battuta della Kravestein e dei muri della Saccomani, 7-1, la difesa di Saccomani a terra poi, Garbet ancora palla dietro per Zanotto, recupera Monza che poi sbaglia ed è 8-1, 11-9, Garavaglia, Zampedri, brutta ricezione ma il pallone è in campo, il pallone è in campo, pallone sulla linea, il punto dunque di Zampedri, la brutta ricezione si trasforma in un punto, 12-9, Alberti, palla dietro per Bruno, il pallone torna di qua al punto per Bruno per il 12-10 in favore però di Montichiari mentre Rinaldi va alla battuta, la gestione di Zanotto non è precisa, poi arriva dalla seconda linea Saccomani che trova il punto numero 13, 13-10, quinto set con la qualificazione già in tasca per Montichiari dopo il primo set vinto 25-16, qualificazione per la Coppa Italia per la finale che si giocherà in una partita secca domenica 23 febbraio a Treviso contro San Casciano alle 14, il punto numero 14 per Montichiari che conduce 14-10, ricordo la ripresa del campionato Reggio Emilia domenica 9 febbraio e poi sabato 15 partita in casa nell'anticipo delle 20-30 contro Vicenza, questi i prossimi appuntamenti per la Metalleghe Sistema Montichiari, il match point, Metalleghe Sani d'Arse Montichiari, arriva l'invasione sotto rete e vince dunque Montichiari questa semifinale di ritorno del Coppa Italia di Serie 2 femminile dopo aver vinto l'andata per 3-0, dopo aver conquistato la matematica finale di Coppa Italia con il primo set vinto 25-16, la partita è proseguita o comunque un allenamento utile, Monza e Montichiari saranno protagoniste nel campionato che riprenderà questa domenica il punteggio finale di 3-2 in favore della Metalleghe Sani d'Arse Montichiari contro la Saugella Monza. Una buona serata a tutti da Claudio Chiari.